Nel Lazio in questi giorni abbiamo superato il milione di vaccini somministrati del vaccino antinfluenzale, siamo già oltre un milione, se si calcola che in tutta la campagna vaccinale del vaccino antinfluenzale del 2019, in tutti i mesi il totale dei vaccinati nel Lazio era 900 mila, noi in un mese abbiamo già superato il milione e quindi grazie a una gara fatta in tempo e a un ordine di vaccini per un totale di 2 milioni e 400 mila dosi, stiamo lavorando per contenere quella che giustamente l'assessore prima ha segnalato come un pericolo, quello che sarà fra qualche settimana l'arrivo dell'influenza stagionale e che si sommerà purtroppo a quella che è già il virus del coronavirus. Quindi è un impegno anche questo straordinario, io ringrazio i medici di medicina generale, i centri vaccinali perché veramente fare 900 mila vaccini in 4 o 5 mesi o farne un milione, anzi oltre un milione in un mese è stato possibile solo ed esclusivamente grazie a una gara fatta molto in anticipo che ha dotato la regione di una dose sufficiente di vaccini e a uno sforzo straordinario dei medici che ora stanno praticando il vaccino. Noi continueremo come regione a fornire chiaramente nelle forme che sarà possibile le farmacie che non trovano i vaccini sul mercato per la fascia che non è quella indicata quindi le fasce a rischio ma il milione di vaccini ci fa ben sperare che in qualche settimana potremo coprire quel target di popolazione molto molto importante che sicuramente sarà più del doppio ma molto più del doppio di quello che è lo standard normale di una regione come la nostra.